Il patto è una delle realtà ovviamente di cui Città Metropolitana ha confermato la sua presenza con le quote ormai qualche mese addietro e non potevamo non essere vicino non soltanto alla società in se stessa ma ovviamente a più comuni che hanno deciso di aderire. In questo caso l'Associazione dei Comuni dell'Area dello Stretto e l'Associazione Grecanica dei Comuni rappresentati dal Sindaco Zavettieri e dal Sindaco Repaci. Un progetto pilota che vede appunto la partecipazione di diversi comuni con importanti finanziamenti che dovrebbero speriamo arrivare sui nostri territori. Un progetto che vede ovviamente la partecipazione e l'accompagnamento della città metropolitana e che speriamo possa ovviamente trovare la giusta attenzione da parte del Ministero. Nella prossima settimana verrà inviato il tutto a Roma e speriamo nell'arco di 90 giorni di poter avere delle buone notizie.